Le due punte stanno lavorando bene, stanno molto strette e non fanno arrivare la palla iniziazione a Fabian Ruiz, in questo caso l'hanno pressato alla grande. Grande giocata di Lulic, Luis Alberto, Leiva, alza la testa, pensa al tiro, Leiva, imbucata, che prosiegue, grande giocata di Aro, ancora lui, lui sta un'altra, può mandare, ancora divino gu desini alonso, lo si sa! Babilissimo! Andisi! Che viene a un guarito, ma av visti un discrepianto. il tocco su, anche la Cagliacorna però che vince il contrasto a un punto, arriva a crossare per Milik, cerca la conclusione di destra, insinua alle sue spalle, si, sull'imbalza di la senda prima la riba, immobile, conclusione deviata, Ospina la trova, più divertenti questi primi 8 minuti di secondo tempo, si, lui si ha dato molto bene, la facilità, un cambio di passo qua da pallo al, insinua, prova a spingere, rientra, insinua, poi palla allargata ancora per lui all'interno della rara, è un figlio, insinua, dentro ancora, più la opinione, the roster è line di trattatore a conclusione di queste, solo l'imbalza di un'estrata, la pallo, con l'infinito, sonra da dare, Vada scherzo! 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 Milinkovic vuole andare da attaccare più alto Zaghi invece la città di stare a tempo Usai centrale la finta di Milik Insegna Isiaz al pallone Poi prova a partire insieme il pallone tagliato va male va male va male va male fatti al giro di stizio va male o spina rischia o spina su immobile perde palla, immobile cerca la porta non c'è il tattacchio chiede del gol passare il sole di giro immobile che vuole inizio dell'altra volta ma cosa ha fatto spina E' il quarto gol consecutivo che Napoli si fa da solo a Metto. E questa è una palla che un portiere che sa di avere buoni piedi, la deve buttare via. Va in depressione, bravo. Resiste all'attacco di Lulic, sempre Zerinsky. Tre minuti di recupero, pallone poi allargato. Prova ad arrivare il traversone, a cercare il violento che non può staccare. Insigno 2, Stracoscia, strepitoso sul suo palo. Anche Stracoscia ha due palate straordinarie, ha sempre su Insigno. Questa è una grande palata, come si è coordinato per calciare al volo questa palla. La Lazio del record, centra la decima vittoria consecutiva. Segna ancora, posto ottantesimo, in quella che ormai possiamo definire la zona Lazio. Un buon Napoli, un buonissimo Napoli nel secondo.